Quindi abbiamo appena detto che c'è chi teme che addirittura le liste arrivino dalle terrazze, dalle finestre. Anche per asserenare gli animi ho chiesto alla segretaria di sospendere un attimo l'accettazione delle liste e di circoscrivere l'area dove erano presenti i delegati con i fascicoli. Per evitare, ho chiesto al comandante che in quelle aree non arrivasse più neanche un foglietto. Chiaramente è noto che chi dispone del palazzo, che dovrebbe essere l'area dove si soddisfano i bisogni, i diritti dei cittadini, nel caso specifico come sempre purtroppo, nel pessimo malcostume che contraddistingue la pessima politica di questo comune, utilizza il palazzo e la propria stanza del sindaco per mettere insieme le liste elettorali. C'è un dato etico, estetico e di opportunità che avrebbe, oltre che legale oserei dire, che eviterebbe che questo accadesse. Se si permettono di eccepire che qualcuno fa reati di peculato perché fa un uso improprio dei beni di tutti, farebbe bene a maggior ragione in un momento come questo, in cui dovrebbe essere un arbitro, che in qualche modo mette in condizioni tutti di partecipare alla partita, una partita importante che si gioca a questo paese, che salvaguardasse queste cose. Questo non è accaduto a prescindere perché l'ultima lista sollecitata da noi è entrata nell'area antistante. La stanza della segretaria guarda caso dalla stanza del sindaco. Quindi è un dato vergognoso, lo specificheremo ai cittadini, perché sui aspetti legali e giudiziari non ho mai amato la via giudiziaria e la politica. I cittadini sappiano che dopo mezzogiorno, ben dieci minuti dopo, è arrivato un signore con un numerino e con dei fascicoli dalla stanza del sindaco. Adesso vedremo il nome di questa lista, come si chiama, chi sono i protagonisti di questa ennesima vergogna di questo paese. A me piace parlare delle cose positive. Cosa positiva o negativa? 20 liste e 6 candidati sindaco. Sarebbe una notizia positiva, bellissima, se questo esercito di candidati, come sollecitavo cinque anni fa, diventassero dei veri soldati degli interessi del paese. Io tutta sta gente in questi cinque anni non li ho visti, non li ho visti a fianco delle nostre battaglie per il diritto allo sport, allo studio, nel momento del bisogno e per quanto riguarda il terremoto, non li ho visti, oggi si candidano, spiegheranno ai loro familiari, ai loro concittadini, ai loro figli, ai loro genitori il perché di questo impegno. Il problema è che la domanda che ho sentito sovente in queste settimane, in questi giorni, non è che cosa vogliamo fare, è con chi stiamo, quante liste abbiamo, quanti candidati, e questa è una cosa veramente, diciamo, il populismo e quant'altro. Detto questo, però, fammi chiudere con una cosa positiva. Domani, chiaramente, abbiamo grande rispetto di chi sta lavorando a valutare la qualità anche legale e di legittimità delle liste, quindi aspettiamo l'esito delle necessarie verifiche per festeggiare, perché la candidatura di Ignazio di Lustro è l'unico fatto nuovo per Forio, ma direi ancora, per l'isola d'Ischia. Ignazio di Lustro è una persona per bene, simbolo del nostro progetto di mettere a servizio del paese competenze, meriti, sensibilità di intelligenza. Pensate che l'unico candidato, tra virgolette, politico delle nostre liste, consiglieri in carica, sono io, non ricordo che abbiamo altri ex consiglieri. Quindi è un dato di rinnovamento deciso, determinato, con una forza elettorale propulsiva che arriverà dal basso e sono convinto che sarà di grande successo, ma non sugli aspetti programmatici, sugli aspetti della qualità delle persone e delle cose che vogliamo fare.